Dal 29 settembre al primo di ottobre presso il campus universitario a Teramo torna con la quinta edizione il forum internazionale del Gran Sasso dal titolo Nuovo Rinascimento per l'Europa. L'obiettivo quest'anno è la presenza di come sempre di importanti relatori e quello di promuovere dialogo e condivisione tra le diverse esperienze attualmente proposte nella ricerca e nella formazione dei centri accademici europei cercando di individuare tematiche di grande rilevanza culturale per la riscoperta e rilancio del patrimonio intellettuale europeo idoneo a promuovere un nuovo rinascimento. Avremo con noi e io sono davvero molto contento, su eccellenza Monsignor Paul Callagher che è il segretario per i rapporti con gli stati della segreta di Stato. Dunque è per noi una grande occasione di comunione, di condivisione con il cammino della Santa Siga anche perché saranno presenti anche rappresentanti europei sia per il mondo universitario sia per il mondo della scuola per le conclusioni. La sua presenza è davvero molto importante ma anche il collegamento con il CERN perché avevamo con noi il professor Zoccoli che è presidente della consulta per i centri di ricerca in Italia ma parerà il CERN. Sono momenti di riflessione insieme con la professoressa Alibrandi, la prolettrice dell'Università Cattolica, poi ascolteremo anche il pensiero e il saluto della ministra. Dunque insieme partiamo il giovedì pomeriggio ma poi ciò che sorprende è la presenza di ben 25 sessioni parallele. Il cambiamento d'epoca sollecita le realtà accademiche di ricerca e individuare tematiche di grande rilevanza culturale per la riscoperta e rilancio del patrimonio intellettuale europeo, idoneo a promuovere un nuovo rinascimento. L'Europa culla dell'esperienza universitaria ha bisogno di un rinnovato slancio per costruire un nuovo sviluppo sociale dei popoli. È un partenariato molto molto ampio ma è un'occasione per discutere su un argomento scelto ogni anno per discutere in modo approfondito del ruolo della formazione e della scienza. Io sono particolarmente contento del fatto che il forum ormai da quattro anni si svolga presso l'Università di Teramo.